...conferenza stampa degli altri due, ministro degli interni Piantedosi e Carlo Nordio, guardassi Giulia. Ascoltiamo ancora. ...delle forze di polizia e sorelle passe. Non è affatto vero, questo forse è ai più rispetto al clamore di questa vicenda legata a una vicenda personale di una persona per l'appunto. Ma gli anarchici da tempo, da anni, impegnano l'attività di prevenzione delle forze di polizia con manifestazioni, con rivendicazioni. Segnalo, e poi vengo alla risposta, che a parte il 41 bis, che sembra adesso, come dire, una provocazione lanciata lì non a caso, ma gli anarchici, nella loro narrazione, fanno da anni rivendicazioni contro tutto il sistema detentivo e carcelario. Sono contrari a qualsiasi forma di compressione della libertà personale per effetto dell'applicazione della legge, proprio nella storia dell'anarchismo internazionale italiano. E allora che facciamo? Uno fa lo sciopero della fama e chiede all'abolizione del carcere e lo Stato dice, vabbè, ok. Siccome non posso lasciarti morire, aboliamo il carcere. Quindi, voglio dire, la risposta in questo tipo di ragionamento non può essere lo sciopero della fama. Adesso non parlo del 41 bis, ma non può essere lo sciopero della fama. Voi immaginate qualsiasi persona assoggettata ad un trattamento penale, insomma, di reclusione, stabilito dai processi, e quindi dalla, come l'ha definita il Ministro Nord, dalla sovranità della magistratura. In uno Stato democratico basta fare lo sciopero della fama e far cambiare idea. Ma certo, ma la salute, ma infatti la decisione che è stata presa, adesso lo dirà il Ministro Nord, è stata quella di tutelare la salute in carcere. Ma non è che può essere che la minaccia del suicidio in carcere o la minaccia di lasciarsi morire di fame stravolge il sistema dei principi democratici, per cui ci sono i processi, ci sono le leggi che possono essere cambiate in Parlamento, però io poi faccio lo sciopero della fame e mi lascio morire e cambia tutto, cambia tutto il sistema costituzionale. Io non ho letto mai nella Costituzione che lo sciopero della fame sia qualcosa che la nostra Costituzione, a cui la nostra Costituzione riconosce la capacità di alterare il sistema delle fonti del diritto e dei meccanismi di funzionamento della democrazia, anche in ambito giudiziario. Prego, Ministro Nord. Ma io non ho molto da aggiungere a quello che è detto.